Siamo in via Regina Margherita, 17 di luglio, oggi si lavora qui per il rifacimento del manto stradale, Assessora. Sì, siamo a pieno regime, oggi stiamo rifacendo il manto stradale e quello che mi permette di sottolineare è che a costi zero per l'amministrazione, nel senso che abbiamo con questa convenzione con Open Fiber, che qui ringraziamo, abbiamo la di Pillo che è la City Manager di Open Fiber, anziché procedere al rifacimento, come vedete nell'immagine, soltanto nella parte di scavo, quindi un metro al ridosso dello scavo, stiamo approfittando, abbiamo chiesto in questo contesto di rifare interamente l'intera via. Oggi saranno delle lavorazioni che guarderanno tutta la giornata, già ci sarà il posto in opera dell'asfalto, inizieremo già nel pomeriggio per poi concluderlo domani, per dare il minor fastidio alla città di Pescara. Siamo contenti perché Pescara, anche come settore delle manutenzioni, stiamo dando un segnale importante in pieno centro. Oggi qualche piccolo disagio per gli automobilisti ci sarà però? Purtroppo sì, però se noi gli automobilisti, anche grazie al vostro supporto, spieghiamo che questo lo facciamo per eliminare quante buche che abbiamo visto insieme, quindi lo stiamo facendo a costo zero per la collettività, io penso che un giorno, anche una giornata di difficoltà sia ben ritribuita, quindi i cittadini capiranno e da domani poi se ci ritroviamo qua vedremo anche l'ottimo lavoro. Mi premeva ringraziare Open Fiber che è stata anche in questo senso molto vicino alle istanze di questa amministrazione, ripeto procedendo a rifare interamente a costo zero per la collettività tutta la via.